Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati, buona domenica, oggi non siamo in macchina per fortuna, sono a casa e ho tutta la tranquillità del mondo per cercare insieme a voi di analizzare quella che sarà questa sera una partita che come potremo vedere anche da quello che ho avuto modo di raccogliere, capire, comprendere, potrà essere una partita abbastanza complicata sia per la Juventus che per la Roma. Ma intanto ci sarà Murigno in panchina e devo dire la verità, sono contento di avere Murigno dall'altra parte perché quando vado ad affrontare Murigno c'è sempre tutto un altro sapore e anche per le parole di Murigno che erano state pronunciate non mi vuoi in panchina perché sei di Torino, no Murigno prego sediti in panchina. Anche ieri Allegri l'ha detto spero di avere Murigno, l'allenatore deve sedere in panchina, Murigno c'è, vincere a Roma oggi avrebbe ancora più valore, sarebbe ancora più gustoso per quanto riguarda la mia vena da tifoso. Poi è ovvio che ci sarebbe stato tutto un altro pensiero riguardo ad Allegri però, questo è, ma sono felicissimo che Murigno ci sia perché vincere contro Murigno nel caso vuol dire tutta un'altra cosa. Non ci sarà invece De Sciglio fermato da un affaticamento, l'anno scorso match winner della gara, l'anno scorso però era successa anche un'altra cosa molto brutta, cioè l'infortunio di Federico Chiesa, quindi speriamo che dato che non potrà esserci il gol di De Sciglio, speriamo che possa non esserci anche un nuovo infortunio per Federico Chiesa, anzi speriamo che il calcio possa restituirgli qualcosa magari con un gol vittoria negli ultimi minuti perché a quanto pare non partirà titolare. Vi faccio vedere direttamente l'afforabile formazione, Scesni, Sandro, Bremer, Danilo, Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Quadrado, Di Maria, Dietro Vlaovic. Questi sono gli 11 giocatori che dovrebbero scendere in campo, poi come sempre c'è l'ipotesi legata al tridente, io credo che non verrà presa in considerazione, penso che Chiesa possa essere considerato semplicemente un cambio a partita in corso. Sono contento, se sarà davvero questa sarò contento per un motivo, guardatela bene, è la stessa formazione del derby di Torino con un cambio, cioè Locatelli al posto di Barrenecea, semplicemente perché Locatelli era squalificato. Significerebbe la prima formazione confermata da parte di Allegri dal suo ritorno in panchina, significherebbe aver trovato una sorta di quadra. È ovvio che non sarebbe la stessa formazione per due volte di fila perché come detto appunto Barrenecea non sarebbe titolare, ma Barrenecea l'altro giorno ha giocato per esigenza proprio perché Locatelli era squalificato per via di quel giallo che si era preso dopo una ventina di secondi. Quindi sarei contento di vedere questa formazione perché appunto significerebbe aver trovato continuità di rendimento, aver trovato una sorta di formazione titolare. Voglio guardare insieme a voi per cercare di fare il punto della situazione su quello che sarà questo Roma-Juventus, il sito della Serie A, che secondo me è sempre molto ben fatto per quanto riguarda queste cose. Questi sono gli incontri precedenti tra Roma e Juventus, 1-1 che è l'andata, che abbiamo giocato il 27 agosto in casa nostra. Lo scorso anno proprio a Roma il 3-4 come ricorderemo bene, c'è l'1-0 della Juventus sulla Roma dell'andata del campionato scorso e poi c'è il 2-0 della Juventus contro la Roma a Torino, partita molto allegriana da parte di Pirlo e poi c'è il 2-2 ricorderete la seconda partita di Pirlo con un quadrado tipo esterno a sinistra e Kuluseski esterno a destra. Anche quella giocata all'inizio del campionato non era agosto ma era settembre per via del Covid. Trend delle squadre, nelle ultime cinque la Roma ha collezionato due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Ha perso col Napoli e ha perso l'ultima con la Cremonese per 2-1. Ha vinto con l'Empoli, ha vinto con l'Elas Verona e ha perso contro il Lecce. La Juventus viene da quattro vittorie e una sconfitta. Derby, Spezia, Fiorentina, Salernitana e la sconfitta con il Monza, ricorderete benissimo è come dimenticarla quella sconfitta con il Monza. Quindi il trend in questo momento è positivo per quanto riguarda la Juve e altalenante per quanto riguarda la Roma. Cerchiamo di guardare il match program della partita. Allora, questi sono i risultati stagionali della Roma e della Juventus. Loro hanno giocato 24 partite, hanno segnato 31 gol, ne hanno subiti 21, più 10 di differenza reti. Noi ne abbiamo giocate sempre 24, abbiamo fatto 40 gol, ne abbiamo subiti 19 con più 21 di differenza reti. Quindi dal punto di vista della fase di non possesso, quindi la fase difensiva, la Juventus e la Roma sono squadre simili, che vanno a subire pochi gol. Dal punto di vista della produzione offensiva, anche qui sono simili, ma la Juventus ha una decina di gol segnati in più e ovviamente avrebbe anche 6 punti in più conquistati sul campo, perché ne abbiamo 15 di penalizzazione e la Roma invece ne ha collezionati 44. Io credo che la Roma, meno male, sia sul ritmo normale. Io avevo previsto una Roma che potesse lottare per entrare all'interno del quarto posto. Sono lì, con l'Inter che non si capisce cosa fa un giorno, sembra una corazzata, e il giorno dopo magari perdere i punti per strada, con il Milan che è in un momento un po' particolare di campionato, con l'Alazio che è lì, con l'Atalanta che è un po' meno lì, che anche ieri ha perso due punti, con l'Udinese, beh, per noi ragazzi è una partita molto molto importante, perché abbiamo veramente la possibilità di tornare a guadagnare dei punti su quelle che ci stanno davanti, cercare di avvicinarsi a quel gruppo lì, aspettando quella che poi sarà la sentenza di ritorno, per capire se questi 15 punti ci verranno attribuiti oppure no. Ieri Allegri parlava della Roma in casa, infatti il rendimento della Roma in casa è 13 gol fatti e 5 gol subiti, con 22 punti conquistati, sì, 22, niente, lasciamo stare, 22 punti conquistati, 1.2 di media gol quindi non segnano tantissimo, però subiscono poco, 5 gol sono effettivamente pochi, invece la Juventus, lo sappiamo, in questa stagione in trasferta ha sempre fatto un po' più fatica, e infatti ha segnato 11 gol in 11 partite, media gol di una a partita, e ha subito 9 gol, quindi sono numeri bruttini. Se mettiamo insieme che la Juventus fuori casa fa fatica e la Roma in casa non prende gol, già qua abbiamo un'indicazione statistica all'interno di questo campionato di Serie A di quella che potrebbe essere la partita di oggi, quindi una partita con la Roma che magari vince 1-0, o un 1-1, o un 1-0 della Juve, o addirittura un 0-0, difficilmente ci potrà essere una partita con tanti gol come quella che è stata l'anno scorso, ma il bello del calcio è che invece ci potrà essere, perché è statisticamente così, ma non vuol dire niente. Fino adesso abbiamo visto queste cose, poi tutto può cambiare, tutto può diventare differente, però la Juventus fuori casa fa un po' fatica, è anche vero che di recente abbiamo visto il 3-0 a Salerno, il 2-0 la Spezia e il 3-0 a Nantes, quindi significa che nell'ultimo periodo la Juventus, anche fuori casa, sta iniziando un po' di più a sbottonarsi, a trovare continuità di risultato. Qua come possiamo vedere ci sono i precedenti di cui abbiamo parlato prima, quindi se non ve li ricordate adesso dovreste avere un po' più di memoria fresca, qua ci sono tutti i dati dei giocatori delle due squadre, quindi andiamo un po' avanti, il rendimento recente l'abbiamo appena visto, ecco, confronto delle squadre, valori medi. Due squadre che non segnano tantissimo, l'abbiamo detto, la Juventus ha un valore di gol segnati maggiore rispetto alla Roma, la Roma ha un valore più alto di gol subiti, ma siamo lì 0,88 contro 0,79, stiamo parlando 19 contro 21, quindi veramente poco, la Juve tira leggermente di più rispetto alla Roma, quindi tira anche leggermente di più nello specchio della porta, fa leggermente più assist, leggermente più passaggi totali, leggermente più la percentuale di passaggi riusciti, un po' di più di passaggi sulla tre quarti, e questo è un dato perché già la Juventus è una squadra che solitamente sulla tre quarti ci gioca poco, significa che la Roma ci gioca ancora meno, la Roma è una squadra che fa più falli, un pelo di più rispetto alla Juve, e dribbla un pochino di più, con un baricentro un po' più alto. La Juve fa più passaggi chiave, fa anche più fuorigioco, a livello di corner siamo sullo stesso preciso identico dato, noi crossiamo tanto di più rispetto a loro, è il possesso nella propria metà un po' più la Roma, e nella metà campo avversario un po' più la Juve, quindi sono squadre che bene o male sono molto vicine come produzione offensiva e come gestione della partita, siamo lì, rendimento atletico direi di lasciarlo stare. La classifica l'abbiamo vista, ripeto, vincere oggi sarebbe molto importante perché andresti a quota 38, quindi andresti a meno 3 dall'Atalanta, a meno 4 perché ieri comunque ha pareggiato, insomma sarebbe il modo di dare un'altra bella scossa alla classifica e avvicinarsi pure alla Roma, che dato che ieri il Milan si è fermato avrebbe l'opportunità di andare a riprendere il Milan all'interno del quarto posto, quindi per la Roma sarà una partita molto importante e per la Juve ancora. I due giocatori che hanno segnato più gol in Serie A per Juve-Roma sono Vlaovic e Dybala, 8 gol a testa, 2 rigori a testa, quindi anche da questo punto di vista squadre molto simili, legate a un giocatore in particolare in zona realizzativa, la Roma con Dybala anche legata alla costruzione del gioco, perché c'è una Roma senza Dybala e c'è una Roma con Dybala, come c'era una Juve con Dybala e una Juve senza Dybala, quindi siamo lì e volevo andare a farvi vedere anche un altro dato che era molto interessante secondo me, vediamo un attimino se lo trovo, ecco, passaggi sulla tre quarti, questo è il dato che volevo farvi vedere. Ripeto, la Juve non è una squadra che costruisce particolari pericoli sulla tre quarti, lo abbiamo sempre visto solitamente sulla tre quarti, andiamo a fare poco gioco, andiamo a fare pochi passaggi e infatti siamo la dodicesima squadra in Serie A per passaggi sulla tre quarti, peggio di noi soltanto Sampdoria, Salernitana, Lecce, Spezia, Empoli, Cremonese, Ellasverona e Roma. Meglio di noi Bologna, Milan, Sassuolo, Monza, Udinese, Lazio, Inter, Torino, Atalanta, Fiorentina e Napoli, quindi noi siamo già una squadra che solitamente sulla tre quarti ci arriva poco, di passaggi ne fa poco, la Roma peggio di noi. Quindi quella di oggi, dai dati sempre, dalle statistiche, da quello che è stato raccolto, da quello che abbiamo visto in queste prime giornate di Serie A, sarà una partita molto bloccata se vogliamo a centrocampo e con possessi palla nelle rispettive metacampo. La Roma è una squadra che segna tantissimo, tantissimo su palla inattiva e la Roma è una squadra che in casa prende pochissimi gol. La Juve è una squadra che fuori casa fa pochissimi gol, quindi la lettura che viene da fare da questi dati è partita bloccata, partita che si può sbloccare con un episodio probabilmente magari da un calcio da fermo. Questo è un po' quello che mi viene da dire. Bisognerà stare particolarmente attenti anche perché noi abbiamo visto che da fermo abbiamo delle situazioni che facciamo anche un po' fatica, quindi lì dietro bisognerà stare attenti perché nelle ultime partite ho visto un po' di difese ballerine da parte della Juve, anche i due gol che abbiamo preso nel derby di Torino nascono da situazioni in cui, sì, poteva crearsi un pericolo, generarsi un pericolo, ma con un pizzico di attenzione in più, se potevano tranquillamente evitare i due gol. Bene la reazione della Juventus, molto bene, e soprattutto bene avere una panchina lunga perché hai Miretti, perché hai Ken, perché hai Chiesa, perché hai, se vogliamo, Paredes, anche se con Paredes qualcosa è successo. C'hai Barrenecea, hai Sule, Healing che comunque hanno giocato anche l'altro giorno. Hai possibilità di mettere dentro dei giocatori per far respirare anche quelli che non ne hanno più. L'unico, se vogliamo, punto interrogativo, chiamiamolo così, è proprio sulla fascia destra, dove Quadrado non è ancora al 100%, anche se ha trovato il gol nell'ultima partita nel derby. Non ha la possibilità di rifietare con Desciglio, proprio perché Desciglio in questo momento è out, quindi bisognerà inventarsi eventualmente qualcos'altro sulla destra in caso di cambio di Quadrado. Non credo che sarà Chiesa, perché penso che ormai Allegri chiese in quella posizione lì a maggior ragione in partite importanti, dato che l'ultima volta era stato schierato con il Napoli e c'erano stati dei problemi. Non lo andrà a riproporre. Riassunto dei riassunti, partita complicata, partita di importanza gigagalittica per tutte e due perché è il classico scontro diretto che vale 6 punti e che alla fine del campionato averlo vinto, averlo perso, pesa e non poco. Un pareggio sarebbe poco utile a tutte e due. Può essere un risultato da prendere in considerazione. Non mi aspetto tanti gol, mi aspetto una partita bloccata che possa da un momento all'altro sbloccarsi anche con un calcio piazzato. Attenzione alla Roma, che è una squadra che sui calci da fermo fa veramente tanto male. Questa è la mia lettura. Poi ovviamente vale come il 2 di coppe quando la brisco le bastoni perché, ripeto, statisticamente è una cosa e il campo è un'altra. Però i numeri, questo ci dicono. Fatemi sapere la vostra questione nei commenti e noi ci vediamo stasera con la live reaction.